Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, nel video di oggi andrò a rivedere le mie vecchie foto. Quindi voi vedrete le mie vecchie foto, vedrete anche la mia reazione quale sarà. Iniziamo. Ah, qua praticamente avevo 17 anni e stavo praticamente in Inghilterra. Stavo scrivendo le cartoline da mandare un po' a tutti, che poi non capisco perché avevo mandato tutte quelle cartoline, se poi le persone non mi devono neanche dire grazie. Qua avevo circa 5 anni, stavo con i miei nonni, praticamente tutte e tre sono deceduti. Mi è rimasta una nonna soltanto che sta a Montesilvano, anzi se sta guardando questo video la saluto, però dubito che lei guardi i miei video perché appunto essendo una persona molto anziana non penso che usi il cellulare, non lo so. Qua è troppo forte perché praticamente c'è mio nonno con in braccio, me da piccola, e mia cugina da piccola. Per chi non lo sapesse, a mio cugino ci portiamo giusto un mese di differenza. Io sono nata ad aprile a maggio. E in questa foto è forte perché sembriamo gemelle. Qua siamo io e mia madre, io avevo tipo 16-17 anni, mi sembra che nel compleanno della mia mamma perché era il mese di luglio faceva un caldo, praticamente aveva le vestite uguale, con l'unica differenza che praticamente lei portava il vestito bianco e io blu, pure se sembra che era nero, però è blu. Bella questa. Qua avevo circa un mese e sono in braccio a mia madre. Bella. Qua praticamente quando ho fatto il battesimo io, certo non lo ricordo perché comunque ero molto piccola, però è bello, bella foto. Sono io con i miei genitori. Praticamente qua stavamo a Torre Bruna, sono io con mia madre e c'è pure il cane. Qua siamo io e mia sorella, da piccole al mare, in acqua, vicino agli scolli, che tra l'altro una volta ho pure rischiato di farci annegare entrambi. Quindi vi lascio immaginare, sia io che mia sorella, per colpa mia, stavamo quasi per profondare. Anzi, mi sembra che ci fosse anche mio padre, sempre per colpa mia. Vabbè, facevamo danni anche da piccola, quindi non fateci caso, stavamo col gommone, ma una lunga storia. E poi le foto, ragazzi, finiscono qua per ora. Se volete vedere un'altra serie di foto, basta che mi lasciate un mi piace e iscrivetevi a questo canale. e revisione a cura di QTSS alla possibilità di